Perchè ce ne stiamo qui a fare questa veglia strana? Io credo che sia un caso, trasformando la nostra vita in uno spettacolo. Monticchiello, il paese che mette in scena se stesso. E quindi la vita diventava un lungo spettacolo. E se si facesse lo spettacolo è proprio il popolo che si domanda che storia si racconta. Invece un prato. Alla spettacolo estivo. Teco l'anna? Mi saluto a voi io. Ho capito. Che problemi hai? In un paradiso come questo. Non ti ripaschi oggi nella panca nelle mani dell'ostate. Siamo di cominciare tutto dal campo. Ma che dici? Ma riprende la scema. Ma non è vero? Ma quanto sei scema? Il resto del palco rimane in piedi. Per ora si. Per andare avanti dobbiamo tutti mettere insieme i nostri sforzi. Buongiorno. 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 Buongiorno.